Nuovo stile per la team Cinque squadre, cinque beat Xtreme Football Arse la palla, si gioca spalla spalla Il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla Attacchi, contraattacchi, colla, volontà e di ferro Sfide nella street, mille tricks sul più bello Fila agilità in tutti i sensi Notte e giorno tra palazzi densi Breakdance e parkour in un pallone Xtreme Football, pronti per l'azione Xtreme Football, gioca a Xtreme Football, pronti Siamo noi lì, siamo qui, dai giochiamo a Xtreme Football Ehi Luna, ma che fai? Stai andando troppo in alto Ma no! Sto provando a fare una cosa Ieri in tv ho visto dei trapezisti E quello che facevano ero troppo forte A me sembra troppo complicato E' super pericoloso E poi tu non sei una trapezista Oh, che fibone No, è solo che il renatore ci dice sempre che queste impalcature sono pericolose Che non dovremmo arrampicarci Ma mi sto solo divertendo Fa come vuoi Bene, io vado, devo raggiungere Ines e Bilal Chi è Bilal? Il cugino di Ines, un ragazzo fantastico Inoltre è un genio della breakdance Devi vedere quanto è bravo Ah sì, mi piacerebbe conoscerlo Ehi, aspettate Guardate Luna, che cosa fai lì? Io stavo per scendere Lo sai che il ponteggio è molto traballante e quindi particolarmente pericoloso? Devo farlo smontare subito Ma nel frattempo nessuno deve arrampicarsi lì sopra, capito? Ma era solo per divertimento Non ci sono ma, Luna Sai perfettamente che vi ho proibito di salirci sopra Quindi se ti rivedo fare delle acrobazie su quelle impalcature Tu non giocherai la partita di domani Ti è chiaro? Sì, sì, chiarissimo Bene, allora ci vediamo al forum per l'annuncio della sfida Dico davvero? Ciao, Bilal Ti presento Joel, il nostro superportiere Ehi, ciao È vero che sei un ballerino di breakdance? Beh, sì, faccio del mio meglio Accidenti, che cosa ti è successo? Eh, ecco, Bilal ha le stampelle perché ha avuto un incidente e... E ho perso una gamba e purtroppo dovrà usare le stampelle per tutta la vita Ah, eh, scusa, mi dispiace Non c'è problema Eh, Bilal Cosa ci fai qui? Ciao, Lord Aspetta, arrivo Che bello rivedervi Come stai, Bilal? Attanto che non ci si vede Allora, Bilal, gli facciamo vedere cosa sappiamo fare? Certo, dimmi, andiamo Musica! Guardate, un ballerino con tre gambe Wow, è bravissimo Sì, ma che stile è? È troppo strano Lascia perdere, Sly Non è per uno sbruffone su due zampe come te Cosa? Vediamo se riesce a colpire questo, allora Ma perché ridete? Non è affatto divertente Vai, Dimmi Vai, Dimmi Ma che cos'è questa musica? Che bravo! Caspita! Che bravo! Sei tu, Bilal? In persona Sua cugina mi ha parlato di te Tu sei Renatone, giusto? Esatto È veramente impressionante quello che fai Beh, ballo in un gruppo di breakdance Noi filmiamo le nostre gare Se ti interessa posso farti vedere dei video Con piacere Vieni a trovarmi quando vuoi Ma prima l'annuncio della sfida per la partita di domani Bruno, se sei pronto ti ascoltiamo Ecco cosa proponiamo I giocatori dovranno segnare con il piede opposto a quello con cui segnano di solito Per esempio, Samu e Greg, che sono destri Potranno segnare solo usando il piede sinistro E se invece usassimo il destra? Allora il gol non sarebbe considerato valido Bene, bene La team, accettate la sfida o no? Sì Ok, nessun problema Perfetto E per il campo invece avete già deciso? Abbiamo scelto il parco est Allora ci vediamo domani per la partita Buon allenamento a tutti Luna, dove vai? Ci vediamo al quartier generale Ehi! Che ci fai lassù? Mi sto allenando da stamattina e visto? Ci sono appena riuscita È una cosa molto pericolosa Ma io lo so fare, sta tranquillo Lo vedo, ma ti potresti fare molto male Devi stare attenta Ok, grazie del consiglio, ciao Per l'allenamento di oggi vi chiedo di provare a tirare con il vostro piede opposto Possiamo tirare anche con la testa? No, soltanto con il piede opposto Io e il mio piede sinistro non andiamo d'accordo È per questo che dobbiamo lavorarci di più Inizialmente ci alleneremo con la palla a terra E poi ci concentreremo sulla ricezione dei passaggi Ma prima vi lascio liberi per venti minuti Su, fatevi un giro Ok, a tu, vedi Hai visto? Che classe è? Già, ma questo è il punteggio sul quale non possiamo salire, no? Oh, tranquilla E poi Renatone non c'è No, non c'è Ma ha ragione a vietarvi di salire lassù Quell'impalcatura è molto instabile Quello che fai è pericoloso, Luna È pericoloso? Renatone l'ha vietato Per caso vi chiamate rompiscatole di cognome, voi due E tu invece ti chiami Testa Dura, no? Sto morendo dalle risate Allora, è vero! Renatone, come va? Qualcuno mi ha detto che stavi facendo di nuovo delle acrobazie su quel ponteggio Eh, ma no, io... Stavo solo provando una cosa Ti avevo avvertita Mi hai disobbedito, quindi non parteciperai alla partita di domani Ma cosa? Non possiamo giocare in quattro, non è giusto Vedetevela con Luna, che ha ignorato il mio divieto Lei non giocherà domani, punto e basta Ora dovete solo trovare qualcuno che la sostituisca Ma soprattutto trovate un altro campo dove allenarvi Non voglio più vedere nessuno qui Non ci posso credere Chi sarà stato a dire a Renatone che ero sul ponteggio? Che cosa cambia saperlo, scusa? È vero, anche se scoprissi chi è stato, giocheremmo comunque in quattro domani Non so proprio come faremo Non c'è nessuno che possa rimpiazzarti Io potrei sostituirla, se volete Sono libero domani Cosa? Sì, ottima idea Ma, non so... Beh, ecco... Insomma, è che... È vero, è un'ottima idea Avete visto prima durante la sfida di ballo le figure che sa fare? Sì, ma, insomma, una partita non è una sfida di ballo, però Ma, comunque, è l'abilità che conta Sì, certo, ma... Ho capito È per la mia gamba che non mi volete È solo che non abbiamo mai visto nessuno giocare con le stampelli Beh, comunque, c'è sempre una prima volta Greg ha ragione Potreste lasciare che Bilal si alleni con voi e trovare un modo per giocare insieme Mi sembra una buona idea Voi che ne pensate, ragazzi? Sono d'accordo Sì, anch'io Samu? Ehm, ok Joelle? Va bene Per cominciare, inizierete allenandovi a tirare con il piede opposto I destri tireranno con il sinistro e i mancini con il destro Inizieremo con dei calci di rigore Bilal, ce la fai a tirare facendoti forza sulle stampelle? Ma sì, certo Perfetto Allora cominciamo Gol! Bella parata Dai, Bilal, tocca a te D'accordo Attenzione Vado È un po' troppo alto Un po'? Forza, continuate! Sì! Così! Molto bene Adesso faremo la stessa cosa ma facendo dei passaggi Ricevete il pallone, lo controllate e tirate Prendete le distanze Bilal, sei pronto? Pronto Allora, attenzione Lascia! Era il turno di Bilal, Samu Sì, scusa, sai, i riflessi Di nuovo Bilal, a te! Scusate, non ero pronto Bene, Greg! Forza, Ines! Bel corpo! Bilal! Sì, vado! Non è possibile Ma che disastro Calmati, Samu Bilal può anche non riuscirci all'inizio In fondo è qui per allenarsi, come tutti voi Ma non lo vedi che non è come tutti noi? Joel, è a ragione Non si sono mai viste delle stampelle in campo Ho capito Me ne vado Ma no, aspetta Per tua informazione, Samu Ci sono molte discipline che le persone con disabilità possono praticare al giorno d'oggi E persino a livello olimpionico Non sei stato carino, Samu Scusate, non voglio lasciare il mio cugino da solo Aspetta, vengo con te Che bella atmosfera Tutto questo per colpa di qualcuno che ha fatto la spia Devo scoprire chi è stato Ehi, Bilal Mi dispiace Lo sai, Samu non è cattivo Forse ha paura per la partita di domani Sì, immagino In effetti non è abituato a... A cosa? A giocare a extreme football con un disabile? Sì, ma sono sicura che si pentirà di quello che ha detto e ti chiederà scusa Che si scusi o meno non cambia niente So bene che per la maggior parte delle persone non sono come tutti gli altri Lui la pensa così e ha ragione Eh no, non ti ci mettere anche tu adesso Tu sai come sei e abbiamo bisogno di te per la partita di domani Sei gentile Greg, ma non credo che sia una buona idea Sì, invece, in quattro contro i del toro perderemo sicuramente Non puoi arrenderti così, non è da te, cugino Forza, andiamo ad allenarci Sì, andiamo Ecco, mi dispiace, non avrei dovuto dire così Ho sbagliato Ok, Samu, è tutto a posto Bene, ragazzi, riprendiamo con l'allenamento Proviamo altre cose, vediamo Allora, Ines in difesa con Samu e Greg in attacco E perché io in difesa? Perché Ines ha bisogno di rinforzi davanti alla porta di Joelle E poi voi due lavorate bene insieme Nel frattempo, Bilal farà da regista al centrocampo per passare la palla a Greg Che quindi potrà tirare Tu dici? Certo, non hai il tempo per allenarti a tirare in porta Ma puoi distribuire il pallone E sono certo che lo saprai fare molto bene Ma quello che sa fare ancora meglio è la spia Sly mi ha detto di aver visto Bilal uscire dal gabbiotto di Renatone Mentre eravamo al quartier generale con Tag E allora? E allora significa che è stato lui a fare la spia Ecco cosa vuol dire E da quando crediamo a quello che dicono i Darkseid? Da quando non sono stati i soli a vederlo entrare lì Mentre eravamo al quartier generale Anche Walter l'ha visto Esatto E mi ha anche chiesto dove si trovasse Renatone Non è vero? Sì, è vero Ma era soltanto per... Avete visto? È uno spione È stato lui Ma lascialo finire, Luna Allora il ballerino ha tre gambe e uno spione? Insomma, volete smettere? Non è vero? Non è vero? Gne, 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 gne Non hai una scusa più convincente, tre gambe? Lascialo in pace, Sly Che cosa vi avevo detto, ragazzi? Questa partita è una pessima idea Me ne vado, ci vediamo domani Sì, vattene via Tirare con il piede sinistro e giocare in quattro Che disastro Non riusciremo mai a vincere stavolta E così vi manca un giocatore per la grande partita Sì, Luna è stata punita da Renatone Non potrà giocare con noi Forse Bilal potrebbe tornare Anche se fosse, non credo che lo lasceremo giocare Ma hai visto quello che sa fare È un ballerino e un acrobata davvero impressionante Se Bilal è così talentoso, perché non volete farlo giocare con voi? Beh, perché... Sì, non è stato corretto con Luna Sei sicuro che sia per questo? E che invece non sia per le sue stampelle? Gioca a calcio con le stampelle? Sì, perché purtroppo ha perso una gamba in un incidente Ma è un acrobata veramente formidabile Ah, certo, non stento a crederlo Quindi è abituato a vivere e a fare tutto con le stampelle Sarà di certo bravo Sai che esistono delle competizioni sportive per le persone disabili? Certo, lo so Ma quelle competizioni sono completamente diverse Perché ci sono solo persone disabili Però da quel che dice Tag Questo ragazzo è davvero un bravissimo acrobata Che è una dota essenziale nell'extreme football Per cui anche se è diverso e non ti senti a tuo agio con la sua disabilità Dovresti provare a dargli fiducia, Sam Certo che no, assolutamente Non possiamo fidarci di lui Ha tradito Luna Ha detto a Renatone che era salita sul ponteggio nonostante fosse vietato E per questo lei non giocherà la partita di domani È Luna che ha fatto male a non ascoltare il divieto di Renatone Comunque non si fa la spia Ecco tutto Voi non potete capire Allora, Samu, cos'hai da dirci di così importante? Beh, ecco, ci ho pensato tutta la notte Non voglio giocare questa partita con lo spione che ha messo nei guai Luna Non faremo giocare Bilal Cosa? Ma che cosa stai dicendo? Samu ha ragione Bilal ha fatto la spia E in più, come fa a giocare con quelle stampelle? Basta, non è vero Vi dico che non è stato lui a fare la spia Beh, comunque Renatone ha detto che è stato lui ad avvertirlo E poi le stampelle, andiamo Non sono fatte per giocare Allora è questo il problema Che usa le stampelle e non è come noi Beh, io non sono d'accordo Perché voi sapete bene che è capace di fare delle super acrobazie in campo Sono d'accordo con Ines E poi non è giusto che Samu prenda questa decisione da solo Già Bisogna votare Io voto perché Bilal giochi insieme a noi Anche io Io no E io nemmeno Quindi siamo pari Che facciamo? Beh, anch'io sono d'accordo con Samu e Joelle È per colpa sua se oggi non gioco Quindi non gli lascerò il mio posto Non sarebbe giusto Non è giusto che sia stata tu a correre uno stupido rischio Quindi è colpa tua se giocheremo in quattro Bene, visto che ci siamo tutti possiamo cominciare Capitani, al vostro posto Un momento, ci sono anch'io Aspettatemi E adesso chi glielo dice? Ok, gli parlo io Allora la team Mi sembra di capire che giocherete la partita con quattro giocatori e non con cinque Ok La porta dei del toro si trova all'estremità est del parco Mentre quella della team è all'estremità ovest Siete pronti? Quando vuoi Allora iniziamo A te Sara Presa Attenta Greg Tranquillo Ben fatto, sorellina Forza Uno, due È come in allenamento Sì, prendi Io mi occupo di Sam Spostati Accidenti Peccato Non è ancora finita Cosa? Oh no Uno a zero per il del toro Yeah, abbiamo segnato Eh sì, sorellina Siamo fortissimi Rimessa in gioco della team Ehi Luna, permetti? Senti, non darmi fastidio Con tutto lo spazio che c'è devi sederti proprio qui Ma... Non parlo con gli spioni Guarda che non sono stato io, te l'ho già detto Ma tu guarda, uno spione è anche bugiardo Certo, l'avrei fatto se qualcuno non mi avesse preceduto Che cosa? Sì, volevo avvisare Renatone Ma qualcun altro l'aveva già fatto Ma scusami, perché avresti dovuto farlo? Beh, vedi Attento Goldei del toro, che conducono per due a zero Oh no, guarda, non mi interessa Lasciami stare Lasciami in pace Quattro anni fa ho imparato a fare i salti all'indietro con la bicicletta Ero davvero bravo Ero il migliore Ero talmente forte e sicuro di me Che ho deciso di fare un salto all'indietro Sul parapetto del ponte vicino a casa mia Cosa? L'hai fatto davvero? Che stupido, eh Non facevano che ripetermelo tutti Il padre di Ines mi aveva addirittura proibito di prendere la bicicletta Per essere sicuro che non tornassi sul ponte Ma io non l'ho ascoltato E sono tornato su quel parapetto Sono salito sulla bicicletta Ho fatto il mio mega salto all'indietro E sono caduto La mia gamba è stata schiacciata dal peso Tutto questo perché pensavo di essere il più bravo di tutti E non ho ascoltato gli adulti che mi dicevano che era pericoloso Quindi capisci? Avrei avvisato Renatone molto volentieri Ma per evitare che ti facessi male Non sono stato io Ma allora, perché Walter ha mentito dicendo che ti aveva visto andare da lui? Non ha mentito, mi ha visto mentre andavo da Renatone a mostrargli dei video del mio gruppo di breakdance E perché non l'hai detto ieri? Perché eravate tutti contro di me E mi stavate prendendo in giro Non mi avreste ascoltato Oh, mi dispiace tanto Forza, Greg! Dai, forza dodici, rubagli il pallone! Attenzione! Non mi hai visto arrivare? Bravo, fratellone! Vai su Samu! Ok Sara, è per te! Lasciate da me! Dai, tutti insieme! Sì! Pronti per il colpo speciale? Ehi, ma che cosa fanno? Attenzione! Ci sono! No! I del toro conducono per tre a zero Accidenti! Fine primo tempo! Vieni, andiamo da loro Cosa? Che aspetti, dai! Ok, sì, arrivo Soltanto in quattro contro i del toro È una missione impossibile Non ce la faccio più Mi dispiace tanto, amici Io ce l'ho messa tutta Ma senza Luna in difesa È davvero complicato Puoi dirlo forte? Che stai facendo? Fai amicizia con questo spione? Ti sei dimenticata? Che è colpa sua Se giochiamo in quattro? Non è colpa sua Sono io che ho fatto una cosa pericolosa E Renatone mi ha punito Renatone non l'avrebbe saputo Se lui non fosse andato a dirglielo Non è stato Bilal ad avvertirlo Ma se lo avesse fatto Avrebbe avuto ragione Eh? Bilal mi ha raccontato del suo incidente Di come ha perso la gara No, Luna Lascia stare Non è il caso Sta tranquillo Quello che volevo dire È che mi ha fatto capire Che sono davvero pericolosa E molto stupide Le mie acrobazie da trapezista Sul ponteggio Eh già Quindi non siamo più Dei rompiscatole No, anzi Mi pento di essere stata egoista Perché non ho pensato Che se fossi stata punita Vi avrei costretto a giocare in quattro Quindi è tutta colpa mia E vi chiedo scusa Accettiamo le tue scuse, Luna Ma questo purtroppo Non cambierà la situazione in campo Credo di avere la soluzione Fate giocare Bilal Cosa? Ma sì Tu hai una grande tecnica E sei una persona onesta Hai tutte le qualità Di un giocatore della team Siete d'accordo con me? Beh, certo Se la metti così, allora Propongo di votare Chi vuole che Bilal giochi nel secondo tempo? Io voto a suo favore Aio Fantastico Bravi la team Allora io vi suggerirei Di far giocare Ines in difesa con Joelle E di mettere Bilal al centro campo In questo modo Lui potrà passare il pallone a Samu O a Greg Vi va? Sì Ma che ci fa a quei tre gambe? Eppure abbiamo detto a tutti Che era stato lui ad avvertire Renatone È vero È stato troppo bello Vedere come ci hanno creduto Questo perché Sly È davvero bravissimo a mentire E è ancora di più a fare lo spio Non avrei dovuto immaginarlo Accidenti Secondo tempo Mi dispiace Zara ma non credo Ah tu dici? Beh hai visto? È fatto passalo Ho la strada libera Non credo proprio Cosa? Strati Forza Greg passiamo all'attacco Eh no Vado io Mi dispiace? Andiamo Greg tocca a noi Accidenti Sì tranquillo Siamo troppo bello oggi? Oh no Forza ora tiro io Oh forse no Oh gelatino I del toro sono in vantaggio per tre a uno Gioco di squadra Ci passa io Scusa permetti? Ma Tia cosa? Bilal a te Ricevuto Samu Grazie Difendi bene ma anche io non sono male Guarda Vai Greg A te l'onora Super passaggio Forza su di lui Gol della team Pareggio tre a tre Rimangono trenta secondi di gioco Forza andiamo Dobbiamo segnare Greg su Zara Me ne occupo Ma Ines a te Joel attento Maggio Rellina E no Bilal a te Marcate gli attacco Aspetta Bilal non passare No non possiamo aspettare Dieci secondi Non riuscirete a segnare Passato Attento Fine della partita Vittoria della team per quattro reti a tre Ce l'abbiamo fatta Che fai? Che tiro incredibile Hai lasciato tutti a bocca aperta Andiamocene Bravissimo Quel tiro è la cosa più estrema che io abbia mai visto Grazie Joel Mi dispiace molto per quello che ho detto ieri Erano tutte sciocchezze Avevi ragione tu Non avevo mai giocato con un ragazzo con una disabilità E ho pensato che... Che non fossi come te Già Ed è una cosa davvero stupida Non c'è proprio nessuna differenza tra di noi Sì è vero Grazie ancora per il tuo aiuto Senza di te non avremmo mai potuto vincere la partita Senti potresti insegnare qualche mossa a Luna A me? La terra occupata Esatto Così non si potrà più arrampicare sul poponteggio Sì visto che volevi fare la trapezista Potrai mettere a punto un vero numero da circo Oh sì Così vedremo Luna nei panni di un clown Molto divertente Nuovo stile per la team Cinque squadre Cinque beat Sfide nella street mille trick Mo' stile per la team Notte giorno a Parte la palla Si gioca spalla a spalla Il cuore sempre prima E il rispetto viene a galla Attacchi contro attacchi Con la volontà di ferro Sfide nella street mille trick Su più bello Fiore all'occhiello Specialisti della strada Si superano prove Questa è la nostra casa Capisci non importa se si vince o se si perde Importante quanto ogni amico nella squadra serve Stile agilità in tutti i sensi Notte giorno tra palazzi densi Break dance e barco in un pallone Voglia di giocare Pronti per l'azione Esatto E' un football Gioca l'ex E' un football Trovi Sfide nella street mille trick Nuo stile per la team Cinque squadre Cinque beat Dai così E' un football Azione Forza E' un football E' un football E' un football E' un football Anzione Forza E' un football E' un football E' un football Sfide nella street mille trick